auto a partire da 50 euro a partire da 50 euro addosso 50.000 pezzini GPL 1.300 diesel 2 euro una fiatitea e che si fa anche in sera mai? 2 euro Nissan Micra 1.500 diesel ecco a me che c'è un muro bacetto con un po' per l'occhio a destra Nissan Murano 2013 cambio automatico a prezzo 5 euro e tenere solo le mani sto divorzio Volkswagen Golf Volkswagen Golf 7.500 io ho la carta è 730 1.600 diesel arrivare alle lezione 54 pollice poi a un'era mini cupera all'interno Countryman anno 2000 il prezzo è 4.500 1.600 diesel dove è corsa? anno 2001 1.200 benzina GPL 3.000 euro se non c'è questo ma non c'è il cuore e si fa mangiare questa macchina questa qua è mangiare perché è bello come solo non capisci una Toyota Yaris ibrida c'è un contatore di corrente 7.500 euro un mercato un mercato sabato cappotto e cappotto Maria De Filippi a 7 euro uccelle cappo pesceo 308 3.800 scusatemi il prezzo è 8.7 la tipina di nonno Ugo la tipina di nonno Ugo il prezzo è 2.200 euro 1.990 va mangiare uno pure mannaccio un camarolla un camarolla un camarolla